Flight 616 è il nuovo Adventure Dating, con concorrenti sconosciuti o quasi, condotto da Paola Barani. La pubblicità in tv, accompagnata dalla canzone Instant Crutch dei Daft Punk, ci informa che il programma inizierà in prima serata su Italia 1 a partire da giovedì 12 maggio 2016. 16 concorrenti, 8 uomini ed 8 donne, tra i 21 ed i 29 anni sul sito ufficiale del programma è già possibile conoscerne alcuni con dei video di presentazione. Gli uomini sono Andrea, Davide, Federico, Julian, Yuri B, Yuri D, Marco e Paola. Le donne invece Alessandra, Andressa, Celeste, Ginevra, Marika, Monia, Sveva e Tania. Durante la prima puntata, in Italia, si formeranno le coppie, che però potrebbero scoppiare durante il tragitto, formandone altre e dando così spazio a possibili gelosie. Lungo i 45 mila chilometri, le coppie visiteranno sei paesi, tappe in cui dovranno ospidarsi in due competizioni. Nella prima i vincitori si aggiudicheranno i biglietti aerei per il volo che li porterà alla tappa successiva, mentre nella seconda le ultime coppie classificate saranno a rischio eliminazione. Appuntamento al 12 maggio in prima serata su Italia 1.